Ecco, se avessi un figlio, sicuramente mio figlio vestirebbe Mimita, perché sono i costumi più belli che abbia mai visto. Amore di zia, ti sto pensando. Attenzione, qui discorsi importanti con il filosofo Ludovico e la dottoressa Alessandra. Parte il sondaggio di cosa stiamo parlando, due donne e un amico gay. O tre donne. Che ci fai tu a casa di zia? Zuzzitta! Zuzzitta! Che cominciai a incaldi! Zuzzitta! Che ci fai qua da tata? No! No! Sei venuta da zia? No! Come no? Non stai gottata? Tata! Non distruggere gli armadi a zia? No! No! Come balla Matilde? Come balla? Come balla Matilde? Quando balla Matilde? aaaah aaaah aaaaah aaaah 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 mamma! no ho vinto io e uno e due buu! là dai uno, due uno, due uno, due uno, due bravo eccomi che tocchiappu eccomi che tocchiappu sei una panzerottona ma dove vago tutte queste cosce tu, ma hai rubatola con l'anna zia wow dov'è? ti devo chiudere il body hai tutto il culetto di fuori eccomi che tocchiappu eccomi che tocchiappu eccomi sa cicciottona mia vieni qua sto piangendo perché tu non giochi con lei guarda come piange zia sto piangendo dai un bacio a zia dai un bacio a zia si dai un bacio a zia tirami un bacio oh tira un bacio a zia dai un bacino a zia no perché no dai un bacino a zia cattiva zitta no zitta tu zitta tu zitta tu zitta tu no fammi sentire un po' come dici zia chi sono io zia zia tua si amore mio sono zia tua e io ti do un piede che brutti i piedi che scambati le fanno schifre io chi sono io chi sono zia tua io chi sono zia tua zia zia sono zia tata giulia sono zia giulia cucù ma nonno 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 boh e peppe cio peppe cio peppe cio peppe chiamalo peppe peppe chiamalo vieni subito qua dai fai le ninne dai dai fai le ninne dai fai le ninne dai oh dai bravo bimbo io zia fai le ninne ma no si si basta è stanca ma che mi svegli ma mi stai svegliando eh no quella è di zia fai la risata delle femminucce fai come fanno le femminucce come ridono mamma mamma è andata via sei mia figlia poi come ridono le femminucce madilde sei una falsa tu hai leccato il muro ma hai leccato il muro è inutile che lo nascondi hai leccato il muro chi l'ha fatto quello tu non si fa che si lecca il muro zia hai capito eh no no tu l'hai fatto tu quello l'hai fatto tu quello no facciamo una canzone la 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 come fa la canzone bravo amore mio bravo ti amo ti amo scusami ma io ti amo allora ragazzi mai lasciare i bambini all'ale è stata un attimo con l'ale e la bambina praticamente è entrata nel bidet vestita chiamala oddio dormi chiamala oddio ssssshh per le nina quale tu sshh 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 i bambini all'Ale la bambina è scioccata amore cosa sta facendo Ale? eh? Lale! chiamala un po' ma cosa mi stai facendo? diglielo aiuta a mettere sulla cerniera no ragazzi no mai lasciare i bambini con Ale